L'attesa è finita, si apre il testamento di Silvio Berlusconi. L'evento che stavamo aspettando è arrivato. Oggi, finalmente, il testamento di una delle figure più influenti e discusse del nostro tempo sarà aperto al pubblico. Sto parlando di Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio italiano, il magnate dei media e il fondatore di Forza Italia. Le sue volontà, che riguardano non solo la divisione del suo immenso patrimonio tra i figli, ma anche il futuro di Fininvest, saranno rivelate in questa rivelazione senza precedenti. Dopo settimane di speculazioni, pettegolezzi e ipotesi, i figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, hanno deciso che oggi, mercoledì 5 luglio, sarà il giorno in cui il suo testamento verrà aperto e il suo lascito diventerà di dominio pubblico. Ma non è solo la spartizione dell'enorme patrimonio di Berlusconi a destare interesse, ma anche il destino di Fininvest, la holding che detiene una quota significativa di MF e Mediaset, Arnoldo Mondadori editore e banca Mediolanum. Tre principali interrogativi si pongono riguardo a questa eredità straordinaria. Il primo, e forse il più delicato, riguarda la divisione delle quote di Fininvest tra i cinque figli. Ma non è tutto, il testamento di Silvio Berlusconi dovrà anche chiarire come saranno divise le ville, le barche e le opere d'arte che erano di sua proprietà al momento della sua scomparsa. Tuttavia, un nodo importante rimane ancora da sciogliere, Marta fascina. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi, che ha suscitato molte speculazioni riguardo al suo futuro nell'eredità del politico. Rumor parlano di un lascito milionario per la deputata, oltre all'usufrutto di una parte della villa di Arcore. Con la possibilità che il resto della dimora venga trasformato in un museo. Il momento atteso è finalmente arrivato. Dopo le 17 e 30 di oggi, tutte le incertezze saranno dissipate e le volontà di Silvio Berlusconi saranno rivelate al mondo. Questo testamento promette di scuotere le fondamenta politiche e finanziarie del nostro paese, lasciando un'impronta indelebile nella storia italiana contemporanea. Non c'è dubbio che i riflessi di questa rivelazione susciteranno un dibattito appassionato e faranno parlare di sé per molto tempo.